e che c'è qua bella a tutti dal vostro gabbo man siamo tornati su pes 2016 perché oggi è giovedì la konami ha effettuato l'aggiornamento settimanale e per fortuna il gabbone ci aveva ragione hanno reintrodotto ancora una volta gli agenti uefa champions league però a sto giro naturalmente ce stanno solo le quattro squadre della semifinale ovvero bayern monaco real madrid atletico madrid e manchester city per me personalmente ragazzi c'ho una bella notizia mi sono rimasti solamente 20 giocatori da pesca con questo agente dei cui 18 palloni neri e due palloni oro quindi entro questa settimana anzi entro la prossima entro mercoledì prossimo il gabbone sbancherà addirittura la gente il che è una bella notizia perché comunque c'ho tantissimi fenomeni da pescare un esempio bale lewandowski muller goetze benzemà insomma tantissimi top player allora le novità eclatanti quando ho acceso la playstation questa mattina mi è comparso un messaggio della campagna road to efa euro cazzi vari praticamente a partire da domani e per 10 giorni di fila se non mi ricordo male tutti i giorni ci regaleranno un agente top quindi mi raccomando ragazzi da domani fate l'accesso giornaliero perché così riuscirete ad ottenere un agente top al giorno capitolo competizione online e offline coppa challenge online una partita secca se vinciamo ci regalano la gente uefa champions league capitolo coppa challenge offline stessa cosa però a sto giro dovremmo giocare due partite offline molto semplici io già l'ho fatto e già l'ho vinto e ci viene regalato la gente champions non mi vengono in mente altre cose quindi vado immediatamente come ripeto c'ho solamente due palloni oro da pesca per il resto sono tutti i palloni neri sulla griglia non se sa per quale motivo sono tutti oro cioè ma come cazzo è possibile vabbè so sfasate se sa ok le percentuali sono così questo è un top player però dovrebbe fare corsette eccolo qua la capoccia stoppa se ha pecorella eccolo qua ragazzi io non ce posso crede guardate che cazzo ha pescato cioè questa pescata basterebbe per oggi secondo me però siccome c'ho anche altre belle cose da pesca andiamo avanti prima però ve lo presento il kunaghero argentino manchester blu 27 anni guardate esagono ragazzi è fortissimo è una cosa esagerata questo lo aspettavo da tanto e sicuramente ci farà una squadra su cui farlo girare potenza di rompente 93 tutti 90 abilità offensiva controllo palla e dribbling pure questo con veronica vabbè ho tutti così che tocca fa la mignotta dei carciatori allora lo aggiungo velocemente ai membri my club perché ovviamente mo pescherò qualche altra cosa di forte arrivato ancora una volta ripago con gp riconfermo a sto punto spero di beccarli quei due palloni oro almeno me li levo dal cazzo e sta a posto così fatto sta che comunque una volta pescati quei due non posso pescare più nessun altro ecco un altro pallone nero sicuramente un altro top può essere ben a tia eccolo guarda scivola perfetto fammi vedere chi cazzo è questo se a pecorella questo non lo riconosco ah ma aspettate ragazzi oltre ai 20 giocatori che mi mancano della gente io non avevo calcolato gli 11 del top team of the year quindi in so 20 so 30 praticamente va bene così questo comunque piqué spagnolo del barcellona 28 anni 1.93 frontale extra ma è un altro fenomeno di quelli esagerati valutazione generale 88 lo andiamo a vedere meglio nel dettaglio questo mi piace abilità difensiva 91 89 equilibrio resistenza colpo di capoccia 88 quindi ragazzi non me ne mancano 20 ma me ne mancano circa 30 cercheremo comunque entro stasettimana di sbancare la gente oh nel caso non ce dovessi riuscire comunque la gente champions lo rimettono pure la settimana successiva eh quindi va bene così lo aggiungiamo pure lui ai membri my club e direi che per oggi ci facciamo un'altra pescata e stiamo a posto così se ripaga con gp se riconferma oh io a sto punto voglio i palloni oro e i palloni oro non escono ma guarda che roba dai non me da un altro top voglio quel cazzo di oro schifoso no è pallone nero vabbè mo vediamo chi è quest'altro e fa le corsette pure lui eccolo che rinvia questo chi cazzo aspettate oh è pepe mamma mia tre top esagerati ragazzi non ce posso crede un difensore meglio dell'altro questo appunto è pepe portoghese del real madrid 32 anni 1 88 c'ha pure mastino che non fa per niente male lo andrei a vedere anche lui nel dettaglio perché questo c'ha abilità difensiva recupero palla equilibrio elevazione insomma c'ha de tutto e parecchio elevate come abilità eppure un leader astuto marcatore con spirito combattivo se vi è piaciuto e volete che questa serie continui mi raccomando mettete un bel mi piace commentate fatemi sapere voi che avete pescato con sto agente ma soprattutto se riuscirete a sbancarlo come farò io condividete iscrivetevi al canale non mi resta che darvi appuntamento alla prossima sempre con un nuovo video di PES 2016 e il capore vi saluta bello a tutti regà ciao